Oggetto numero 25, rinvenuto nella Dependance di Borbone a Machu Picchu in Sud America. È un pezzo di gran pregio, si parte da un prezzo di base d'asta di 400 euro. Chi offre di più? 700. 700 la signora? Ne offro 850. 850 al signore? Ne offro 900. 900 il signore? 1000. 1000 alla signora. Aggiudicato alla signora, nessuno offre di più? 1100, 1200, 1300. Aggiudicato, complimenti signora. Oggetto numero 26, anch'esso rinvenuto nel Sud America, artigiano di Grottaglie, rinvenuto all'incirca nel 1300. Non ho capito, quella cosa l'hai, del Centro America o di Grottaglie? È stato rinvenuto nel Centro America, ma l'artigiano che lo ha costruito è di Grottaglie. E' un pezzo, una perla e si parte da un prezzo di base d'asta di 800 euro. Chi offre di più? Ne offro 1000. 1000 alla signora? Ne offro 1200. 1200 alla signora? 1100. 1300, 1500 alla signora? Ne offro 2000. 2000 alla signora, nessuno offre di più? Aggiudicato alla signora, 2001, 2002, 2003. Complimenti signora. Oggetto numero 28, è un olio su tela, anonimo del 600 Umbro. Partiamo da un prezzo di base d'asta di 1500 euro. Chi offre di più? 3000 alla signora? 4000 ne offro. 4000 signora, nessuno offre di più? Nessuno. 4000 e uno, 4000 e due, 4000 e tre. Aggiudicato al signora. Scusate, ho perso il portafoglio. C'erano 300 euro dentro. Se qualcuno lo dovesse trovare, ne offro 30. Ne offro 40. Ne offro 50. Ne offro 70. 80. 120 offro io. 150 alla signora. 190. Scusi, ne offro io 200. Allora, non lo importa qua, ne offro io. 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 No, non lo importa qua. No, non lo importa qua, ne offro io. 50. No, non lo importa qua, ne offro io. 50. No, non lo importa qua, ne offro io. 50. 50.